La Polizia di Stato celebra oggi il 170esimo anniversario della sua fondazione. Dalle 11 di questa mattina al Teatro Margherita di Caltanissetta erano presenti tutti i rappresentanti delle istituzioni civili, militari, religiose del territorio nisseno e anche alcune scolaresche. Con il suo intervento il questore Emanuele Ricifari ha spiegato quanto sia stato determinante il lavoro svolto in quest'ultimo anno su una terra, quella nissena, dove l'ombra della stide e della criminalità richiede l'alta professionalità e l'impegno degli uomini della Polizia di Stato che hanno pienamente dimostrato come raccontano i dati del report annuale di operazione in operazione. E poi un grazie trasversale lo ha rivolto ai veri rappresentanti delle istituzioni presenti fino ad arrivare ad ogni singolo agente che lavora con dedizione e passione. La sicurezza non si costruisce da soli, noi lavoriamo e cerchiamo di mettere tutti nelle condizioni migliori per assicurarlo. A noi spetta il lavoro finale ma tutta la parte che attiene alla sicurezza di ciascuno va costruita ciascuno nel proprio ambiente, ogni istituzione ha uno sforzamento corretto, compiuto, efficiente dei propri compiti e ogni cittadino nel rispetto del cittadino che vive accanto a noi. Un secolo e mezzo in difesa della legalità e della libertà attraverso la legge, sempre al servizio dei cittadini, in favore dei più deboli e degli indifesi per esserci sempre. A concludere la manifestazione dopo la consegna dei riconoscimenti agli uomini della Polizia che si sono distinti in questo anno, le parole di due giovani studentesse che in Italia sono cresciute e che presto acquisiranno la cittadinanza italiana. Amate Lara Bihi che sogna di diventare un medico e che ha sottolineato che grazie alle leggi dello Stato italiano e alla Polizia si sente protetta e Ioana Goinea che citando Cesare Pavese ha detto la casa è dove trova posto il cuore. Io sono arrivata a Qualitalia nel 2004 insieme alla mia famiglia e man mano con gli anni si è allargata. Sono molto felice di stare qua a senistetta, mi sento molto ben protetta grazie alla Polizia che fa sempre di tutto per tenermi sempre al sicuro.